ragazzuoli buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale faccio questo rapidissimo video per darvi un'informazione fondamentale questo pomeriggio mi troverete in onda in diretta in radio dalle 16 e 30 alle 17 e 30 su L radio quindi state molto attenti stazione radio 88.100 vi scrivo comunque tutto a schermo e tutto in descrizione inoltre vi farò sapere come già ieri sera ho fatto sui vari social quindi facebook solo però comunque sia sulla pagina sul profilo c'ho già il fiatone comunque la cosa importante è che voi chi può non tutti però chi può dovete sintonizzarvi la stazione radio 88.100 da android iphone da cellulare da computer da quello che vi pare e se vi va chiaramente ascoltare la mia performance così radio farò presente anche da speaker penso un po perché insomma sarà il mio debutto in radio sono anche un po emozionato ci saranno anche 5 10 minuti in cui verrò intervistato da youtuber spero comunque sarete in molti comunque sia perché ci sarà ci vediamo oggi pomeriggio per chi non ci sarà per chi non potrà esserci ci vediamo comunque con i prossimi video ciao belli